Siamo partiti, c'è una sirena, ma no, è dall'altra parte della strada, non è di qua. Transisole, stai lì dove sei, puoi muovere, e l'ambulanza ti sta passando dal lato destro. Allora qua, è un altro semaforo, e poi, ripartiti. Allora qua, è un altro semaforo, e poi, ripartiti. Allora, l'ingresso porto, ma non è quello del varco per il canyon. Allora, l'ingresso porto, è un altro semaforo, e poi, ripartiti. abbiamo delle voragini ogni tanto da superare il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info la targa non è ancora stata caricata per l'imbarco infatti devo ancora presentarmi alla biglietteria adesso ho detto fermati qui sulla destra parcheggia poi vai avanti dopo il cantiere c'è la biglietteria c'è il divieto di sosta faremo quelli che fanno così anzi no guarda vado al posto dell'autobus mi vado a fermare al posto dell'autobus praticamente dove mi ero fermato stamani che è anche mezzogiorno e mezzo così mi metto pure a mangiare qualcosa signore e signori a dopo allora sono le 15 e 23 praticamente sono tre ore che sono arrivato adesso l'imbarco è previsto dalle 17.30 in poi però adesso mi sposto da qua e vado a mettermi in coda sotto la nave giusto giusto perché mi sto annoiando diciamola così in questo momento c'è ancora molta calma quindi una mossa simile di farmi i viali da retromarcia la posso fare senza senza troppi pateni e quando comincerà a imbarcare la nave mi sa che sarà un po' più difficile adesso vediamo a 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 di che si potesse già entrare cioè già entrare ma non va bene ok sono già stato punito è stato un po' mi metto a di dietro mi metto a fianco prendo mezza strada non sarà più facile da entrare dopo va bene noi stiamo qua così pazienza ragazzi a poi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.